Capelli. Ok, ci sono altri che non riescono a votare? No, è chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo all'articolo 21 per il quale c'è solo un emendamento della Commissione. Onorevole Coscia. 21.400 della Commissione. Pareri favorevoli. Onorevole Pannarale. Contrario. Onorevole Borghesi. Contrario. Onorevole Chimienti. Contrario. Grazie. Allora, metto in votazione l'emendamento 21.400 della Commissione, con il parere favorevole di Commissione e Governo, contrarie dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Ci siamo? Zardini, Fanucci, Galperti. Fanucci è rimasto... ecco. Ci sono altri? No, Figgerald. Ok, ha votato. Onorevole Terzoni. Onorevole Zolezzi. Terzoni ha votato. Vediamo Zolezzi se riesce a votare. È chiusa la votazione. La Camera ha...